Mischa Nonu ha condiviso uno scorcio della sua cerimonia di matrimonio su Instagram mentre celebrava il suo quarto anniversario di matrimonio. Il principe Ferri è stato avvistato in una foto inedita del matrimonio della migliore amica di Meghan Markle, Mischa Nonu, dopo che lei ha condiviso per la prima volta uno sguardo alla sua cerimonia di matrimonio di prim'ordine ieri sera. La stilista britannico Barenita, che vive a New York ed è nota per la sua omonima linea di abbigliamento, ha sposato il magnate del petrolio Mikey Ace nel 2019 durante un fine settimana di eventi costellato di stelle. La foto della cerimonia di matrimonio tempestata di stelle è stata condivisa dalla fashionista sul suo account Instagram mentre celebrava il suo quarto anniversario di matrimonio. Mischa ha sottotitolato il post. Ho sposato l'uomo dei miei sogni quattro anni fa oggi. Buon anniversario amore miochiocciola amichies.In una delle foto, si vede la coppia baciarsi in fondo alla navata, mentre il pubblico applaude con un uomo calvo con i capelli rossi seduto in prima fila, ha riferito mail online. Si ritiene che il duca e la duchessa di Sussex, abbiano preso parte alla cerimonia nuziale avvenuta a Roma. Mischa è un'amica intima del principe Ferri e di Meghan Markle, e si dice che abbia messo insieme la coppia. Secondo quanto riferito, la relazione tra Meghan e Mischa risale a molti anni fa, secondo la biografia Bomba Finding Freedom, scritta in collaborazione dai giornalisti Omid Scobie e Caroline Duran, che ha documentato la loro amicizia. Al matrimonio di Mischa e Mikey alla villa Aurelia a Roma, hanno partecipato artisti del calibro di Meghan e il principe Ferri, Ivanka Trump e Jared Kushner, Paul McCartney, la conduttrice Gayle King, Carly Closs e Josh Kushner, Katy Perry e Orlando Bloom, e James Corden. Anche le principesse Beatrice ed Eugenie, Nikki Hilton Rothschild, Jenna Bushager, Wendy Marduk, Dasha Zhukova e Stavros Nia Kyrkos sono state fotografate mentre partecipavano alla festa di nozze.